Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 6 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Protagonisti finché si può. In città, come al mare, sui monti, in viaggio, adorate stare al centro della scena, il ruolo di protagonista vi si attaglia a pennello, effetto della luna possente nel segno, contrastata però da urano anarchico in quadratura. Se pensate di potere dettare leggi ovunque vi troviate e qualunque cosa si faccia, avete sbagliato a capire, per non rimetterci in immagine converrà a fare buon viso, lasciando in cabina, in albergo, in un tratto del bosco tutto l'orgoglio e l'alto concetto che avete di voi stessi, il passaggio lunare in Vergine, dove già stamani si è affacciata Venere, è una bella lezione di modestia. Anche gli acquisti si fanno con amore e per amore, lo sfoggio qui non è gradito, in questo strano turistico chiamato semplicità ci si abbiglia semplici, si mangia rustico e si spende il meno possibile. Arte, natura, ecologia, politica le tematiche più gettonate. Sopravvento di scrupoli e rimorsi, vi sentirete in colpa per quanto vi è successo in passato o di recente. Tuttavia il vostro comportamento non vi sembrerà alla fine ingiusto. Ma potreste incorrere in altri errori soprattutto a persone che si presenteranno a voi come candide persone, ma in realtà sono pronte a sfruttarvi e a mentirvi. Prudenza e perspicacia necessarie. Apprezzate di più gli slanci del partner. Non date sempre per scontata la sua presenza. Potrebbe costarvi caro questo atteggiamento. Oggi la fortuna ti terrà per mano. Sarai simpatico, creativo, estroso. Bene tutto ciò che ha a che fare con questioni burocratiche e legali. Sarai distratto. Una questione riguardante l'amore o i soldi da risolvere. Giornata fortunata per i nati di venerdì e martedì, potreste anche pensare di tentare moderatamente la fortuna e magari realizzare un piccolo desiderio. Oggi è un giorno di piccole sorprese in amore, fate in modo da assaporare il gusto delle piccole gioie e delle piccole soddisfazioni. Potrebbero essere preludio a grandi cose. Abbiate cura di spiegare al vostro partner meglio il vostro particolare punto di vista e cercate di chiarire alcuni aspetti della questione. Portate il sorriso dove c'è tensione e paura, provate sempre a immedesimarvi negli altri per capire le sensazioni che provano. Per i single è importante che non facciate mistero con le nuove conoscenze delle vostre storie passate che vi hanno dato qualche problema e qualche sofferenza. Meglio essere chiari prima piuttosto che essere fraintesi. Ti andrà di fare cose insolite. Tenderai a essere insofferente punto avrai voglia di abbellire la tua casa, di renderla più accogliente. Compra dei fiori. Fermatevi finché siete in tempo, vi state inerpicando per sentieri tortuosi e in situazioni dalle quali sarà difficilissimo uscire. Usate il buon senso e non fatevi travolgere dalla passione. Sole, luna, giove, marte determinano i buoni auspici di cui vi dota questa nuova giornata del mese di agosto. Perché siete gratificati da un tono vitale smagliante e da una energia psicofisica notevole, l'ideale per affrontare alcune piccole scaramucce che si verificano in famiglia e vi condizionano un po', specialmente se siete nati in questi giorni, tra il 2 e il 12 di agosto. Giornata delle fregature oggi per voi, eppure di prima Chito non parrebbe con la luna in transito nel segno per quasi tutta la giornata. Vero che Urano le si mette di traverso, ma questa non è una novità, ormai lo sopportate da anni. Di nuovo c'è che all'alba Venere vi dà il B e B e per passare in Vergine dove già transita Mercurio che vi ha traditi a fine luglio. In più, come se non bastasse, entro sera anche la Bianca Signora seguirà lo stesso percorso, lasciandovi di colpo sguarniti di supporto. Ora con voi dopo il Novilunio rimane soltanto il Sole, la stella del compleanno, comunque sufficiente a sostenere l'essere. Tutto il resto passa al settore dell'avere, ma non immaginatevi i fasti e l'abbondanza che piacciono al vostro segno. La Vergine è speragnina, modesta, contenuta, perciò tutto ciò che passerà nella vostra seconda casa, dal denaro al cibo, fino agli acquisti e agli svaghi risponderà esclusivamente al comando dell'avere. Amore ed Eros. Possessività fuori luogo, non si addice a un personaggio come voi, sicuro di se stesso, del proprio carisma e della propria posizione nel mondo. Oggi però nel corso degli eventi qualcosa mute e cambia direzione, incrinati da una strana nota di insicurezza i vostri sentimenti si fanno più possessivi, leggermente ansiogeni ed è solo con il partner e i figli tra le braccia, non lontani in qualche angolo del mondo, che vi sentite sereni, a riparo da rischi e imprevisti. Lavoro e denaro. In azienda il capo vi fa una piazzata, in realtà senza motivo, un colpo basso per il vostro orgoglio che ne esce ammaccato. E se non mollate la barca piantandolo brutalmente in asso è soltanto perché lo stipendio è buono e voi spendaccioni come siete, a fine mese, ne avete sempre bisogno. Anche oggi in cerca di consolazioni, qualche acquisto elegante, una cena sfiziosa, un bello spettacolo all'aperto, se gli altri non vi amano e non vi apprezzano vorrà dire che vi amerete e apprezzerete da voi stessi. Benessere. Quando siete così nervosi e vi sentite sottovalutati dal mondo, anche voi cadete nello stesso peccatuccio che affligge tre quarti della popolazione, umano troppo umano cercare rifugio in gastronomia o in gelateria. La scusa è che siete inappetenti e qualcosa di gustoso da mettere sotto i denti contribuirà a tirarvi su. Zafferano la spezia per voi, il suo caldo colore del sole sconfigge la nebbia delle insicurezze e dello scorno. Denaro. Potreste credere di fare acquisti sensati e invece sono futili e frivoli. Attenzione a non allargarvi tanto nelle spese quest'oggi con Plutone e Urano entrambi in angolo dissonante dal toro e dall'acquario. Per lei, piccoli regali sulle bancarelle artigianali, prezzo contenuto ma scelta accuratissima, sono fatti di cuore e il destinatario lo capirà fin dalla prima occhiata. Per lui, buona educazione e mangiare di gusto ciò che il padrone di casa vi offre, ma evitate di buttarvi sul piatto come un naufrago, meglio conversare di tanto in tanto tra una forchettata e l'altra, tanto con questo caldo non c'è rischio che il piatto si raffreddi. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.